E' ufficialmente iniziata la seconda avventura granata di Stefano Colantuono, il neoallenatore della Salernitana, dopo l'esonero di Fabrizio Castori, ripartito proprio da quella che era stata l'ultima panchina della sua carriera, ma stavolta ha ritrovato il cavalluccio marino in massima serie. Il tecnico è arrivato a Salerno in mattinata, ad accoglierlo ha trovato il dirigente Alberto Bianchi, con il quale ha potuto prendere visione del centro sportivo Meri Rosi, radicalmente modificato rispetto alla sua ultima avventura granata. Nel pomeriggio poi Colantuono ha raggiunto con largo anticipo il campo di allenamento, accogliendo i calciatori che tra le 13.45 e le 14.30 sono arrivati alla spicciolata di Tacchio, Bonazzoli, Diuric, Mamaduculi, Balì e Riberì. Sono stati tra i primi a conoscere il nuovo allenatore, che è apparso subito molto motivato. Come era capitato al suo predecessore, però in questa fase, Colantuono dovrà fare i conti con un'infermeria ancora affollata. Bonazzoli, Lassana, Coulibaly e Ruggeri hanno svolto un lavoro atletico specifico. Bogdan, Capezzi e Stramberg si sono sottoposti a fisioterapia. Le buone notizie però riguardano Ghiomber, la risonanza magnetica a cui si è sottoposto il difensore, non ha evidenziato criticità alla dottore sinistro. Le sue condizioni saranno rivalutate in settimana, ma non dovrebbe trattarsi di nulla di grave. E' tornato a lavorare regolarmente in gruppo anche Frank Riberì, che sarà disponibile per la sfida di sabato contro Lempoli. A quadiuvare il lavoro di Colantuno ci saranno il vice Gianfranco Cinello ed il match analyst Sandro Antonini. Confermati invece gli altri collaboratori di Castori, tra cui Manolo Pestrin.